I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri, in base al DMC numero 145 del 203 2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Se ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa Bella casa dei numeri Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu Casalotto in tv E Casalotto in tv c'è anche questa sera E ci siamo a parte un appuntamento davvero tanti gli amici che c'erano questo pomeriggio ma magari questa sera non ci saranno oppure insomma si sono invertiti allora grazie ciao 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 a tutti ciao Valter Sì perché anche oggi pomeriggio davvero ringraziamo tutti voi buona serata innanzitutto e ben ritrovati a chi ci ha già seguito oggi pomeriggio Magari c'è stasera magari non c'è E chi invece sta cenando con noi Buona forchettata amici Lasciatecene un po' che io c'ho già fame Anch'io Tanto per cambiare Eh oggi guarda giornata veramente sono affamatissima Sarà che ho iniziato un pochettino di dieta Sarà che sto freddo Ma tu sei perfetta che dieta E' bella da far paura L'ho vista prima e gli ho detto Ma sei diventata un'acciuga con Natale Infatti mi ha fatto il complimento Ma io ho detto Eh magari Io so qua quei rotoli Più tre chili Eh vabbè Eh vabbè Allora caro Walter Cari amici a casa Abbiamo davvero una serata bellissima da passare insieme Come sempre notizie Consigli per l'estrazione di domani Sì Allora Intanto vi parlo dell'almanacco di oggi Perché Undicesimo giorno dell'anno Come questo pomeriggio E' Santigino Il sole sorge alle 8.36 E tramonta alle 18.01 La luna è piena Sai che la luna è piena Secondo i nostri nonni Eh La luna è piena Porterebbe il 90 Ripeto Secondo i nostri nonni Eh avevi detto l'altra volta Ovviamente Però si Che meraviglia Beh la luna è piena Porta tante cose belle E poi è affascinante A me non fa dormire Davvero Sarò un po' un lupo Non lo so Io noto proprio che non chiudo occhio Ma va Ma dai Poi allora Il segno è quello del capricorno E in questo giorno sono nati Massimo Lopez Maria Rosario Maggio Vicky Peterson Delle Bengals E Albert Hoffman Che come dicevamo proprio oggi pomeriggio L'inventore dell'LSD Della Della lucinogeno Quello sintetico Insomma di cui abbiamo parlato oggi Poi notizie Parleremo dell'isola dei famosi Aiuto Aiuto Mettetemi un tappo in bocca Chissà che ci sarà Eh io lo so già Vi dico solo un nome Stefano Bettarini Basta non vi dico nient'altro E poi caro Walter Parleremo di vita social Di questa ragazza Che Talmente perfetta Che ci si chiede Se È frutto di una Costruzione digitale Oppure No Oppure reale Si chiama Michela O si è finita sotto i ferri O si è finita sotto i ferri Eh non ho visto le immagini Perché può essere che si ha Ah si Qualche intervento Sapete quante Miss Universo Quante Modelle Soprattutto dal Sud America Perché in Sud America C'è una cultura Della chirurgia estetica Pazzesca E la fanno Talmente bene E da quando sono Non dico bambine Ma quasi Si si Che si sottopongono a Cambiamenti Sembra tutto naturale In realtà di naturale C'è poco Vi posso dire che Arianna È cento volte meglio Eh grazie Ma quanti complimenti Ma grazie Ma grazie Eh sì Su quello è natura Eh certo Ma noi vogliamo quello Io non ho fatto niente Se lo farò Lo dirò Perché che male c'è Assolutamente Qualche ritocchino Qualche punturina Però più avanti L'aiutino è un conto Lo strafarsi No 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 Infatti davvero Ma sono sempre di più Eh le ragazze Ma anche quelle E in sicurezza Secondo me Che si cambiano E non sempre cambiano in meglio No No Vabbè Insomma Iniziamo a parlare di cose Veramente importanti Veramente serie Esatto Mettete il naso fuori dalla finestra Attenti a non ghiacciarvelo Perché questa sera Fa ancora un freddo boia Infatti sono bardato E c'è quella luna piena E allora amici Ripercorrendo una tradizione Che me l'hanno tramadata I miei nonni Però poi avvalorata Ovviamente Ci mancherebbe altro Questa è una sede seria Eh Per parlare di lotto C'è il 90 Un 90 grosso come la luna Ed è un 90 Che ormai attendiamo davvero tanto Ve lo porto dalla redazione Mi raccomando Venite con me Eccoci qua amici Eccoci qua anche questa sera E diamo veramente Un calcio di rigore Al banco lotto All'automatica Perché noi attendiamo il 90 Il 90 che in queste prime estrazioni Del 2017 Di quest'anno Ancora non si è fatto vedere Però è sempre più caricato A pallettoni Signori Attenzione E vorrei anche dire una cosa Al di là di un'estrazione Che può essere Un po' più mosciarella E ci sta Però siamo davvero In un momento di gioco In cui poi le conferme Arriveranno Tutte quante Uno dopo l'altra Perché? Perché quando viviamo Momenti di gioco come questi Dove le aspettative Sui capogiochi importanti Sono confermate proprio Dall'andamento numerico Possono slittare un colpo Possono slittare due colpi Ma poi Tracchete che ci siamo dentro Perché vi faccio questo Piccolo cappello introduttivo? Perché noi in questa prima parte Dell'anno In queste prime cinque estrazioni Quattro Non abbiamo ancora visto appunto Questo Bellissimo 90 Il fatto è amici Che il 90 è veramente Ma veramente Tanto Tanto Carico Allora amici Attenzione per questa serata Per questo Aggiornamento Che peraltro vi porto Per l'ultima volta Attenzione Siamo in pienissima diretta Questa sera Sono le 20.07 Per cui Potete verificare In diretta Che siamo proprio Nelle vostre case Per l'attesissimo 90 Da andare A puntare Alla ruota di Roma Signori Roma Sta chiamando Veramente Con il megafono Il 90 Questo 90 Che arrivato Appunto Da una condizione Del vertibile 27.72 Il segnale Di questo 90 Ieri sera Amici Proprio a quest'ora Eravamo in onda Con Sheila Arrivava l'estrazione E il 27.72 Peraltro L'abbiamo proprio Commentato Tra le nostre vincite Era un perfetto Ambovertibile Che abbiamo vinto Secco E a due numeri Attenzione amici Alla ruota di Roma Tutte le conferme Peraltro oggi pomeriggio Poi finita la diretta Pomeridiana Mi sono sentito ancora Con Marco e Lio Perché loro hanno avuto Un'ulteriore conferma Da un altro tipo Di conteggio Il fatto è Che per quanto riguarda Roma Tant'è vero che La dichiariamo pubblicamente in onda Ruota unica Abbiamo veramente Un 90 Stramirato Attenzione amici Noi abbiamo Un consiglio firmato Marco e Lio Lo hanno registrato loro Qua all'895 095 Un consiglio A ruota secca Mirato Significa andare a puntare Un Ambo Significa andare a puntare Un Terno E significa andare a puntare E a tentare Una quaterna Veramente straordinaria Ricordatevi quello Che vi ho detto Pochi minuti fa Quando appunto Vi ho guidato Alla presentazione Di questo 90 Possono esserci Estrazioni in cui Tutto quanto Sembra fermo Poi esplode Tutto quanto di colpo Perché? Perché ci siamo sotto Perché ci siamo Proprio col fiato sul collo Il fiato sul collo Per questo 90 Amici Parte proprio Dalla ruota capitale Ciao amici romani Ciao a tutto il Lazio Ci seguite veramente sempre Ma qua davvero Tutte le strade Portano a Roma Per un 90 Veramente potente Giochiamocelo Con prudenza Come sempre Basta l'euro Puntata minima Comunque per vincerne Veramente tanti Di soldi Un Ambo Paga 250 euro Un terno ne paga 4.250 Una quaterna Ne paga 120.000 E allora Questo euro Ce lo vogliamo giocare bene? Andiamo all'895 095 Ed è un aggiornamento Veramente di quelli Che sgomitano Deve assolutamente Essere nelle vostre case Questo punto di partenza Questo punto di 90 Questo 90 Romano Per Ambo Terno e quaterna Allora amici Se siete pronti Noi lo siamo L'895 095 È pronto A dare a tutti quanti voi Ancora una volta Un colpo magico di fortuna Legato appunto A questo 90 Quando la voce guida Ve lo richiede Lo sapete Voi potete Prendere la linea Da tutta la rete fissa Ed è in promozione Potete prendere la linea Da tutti i cellulari Quando la voce guida Ve lo richiede Digitate il tasto 3 E avete Marco e Lio Indiscutibilmente Con la loro voce A dettarvi Un Roma Da capogiro E allora Se siamo pronti Noi vi aspettiamo tutti A tra poco E allora A dare a pizza Such a beautiful dog Walk around like a log A dare a pizza 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 Grazie a tutti. 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 Già un anno fa siamo passati alle interviste ai figli dei capi mafiosi sulla Rai. Adesso passiamo con i super invitati a centinaia di migliaia di euro. Non credo che sia un atto di rispetto nei confronti di chi ha patito certe truffe, ma comunque per chi per divertirsi vuole seguire una trasmissione avrebbe bisogno di begli esempi da vedere. Certo, eh beh, quello sì, sicuramente. Non è moralismo, però mi sembra veramente la palissiano, però sai, non fa la polemica, non fa gli ascolti, però vedi la macchina. prima ti distruggono poi 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 ti riabilitano per fare gli ascolti. È una macchina che ti distruggono poi ti distruggono per fare gli ascolti. È una macchina veramente complicata. Complicata e non sempre logica. Però credo che tutti quanti un po' la pensino come noi, no? Perché la scelta proprio di mettere Vanna e Stefania? Ma poi per carità, a me stanno anche simpatici loro due, perché... Beh sì, certo. Ma certo, per carità, però io penso che vorremmo vedere in televisione gente che ha dimostrato di essere veramente con le palle. Invece inviato Bettarini come lo vedi? L'inviato Bettarini preferivo Alvin perché è giovane, deve farsi la sua strada, non ha guadagnato i miliardi del calcio mercato come Bettarini. Anche lui secondo me... Beh però ti dirò che a me... Beh il Bettarini c'ha il pettorale che tira su, l'ascolto. Sì, sì, dai. Metteranno col petto di fuori lo short corto e anche lui avrà un suo loro. E piace, piacerà, piacerà. Però Alvin è sempre nel mio cuore. Però Alvin è bello vedere i ragazzi, i giovani che si fanno strada, che imparano. Bravo, simpatico, umile, carino, proprio ce l'ha tutti Alvin. Un bravo ragazzo, si vede. Ciao Alvin, io non ti conosco però come vedi il tifo per te. Anch'io, però dai sono contenta sempre per Bettarini e condurrà sempre Alessia Marcuzzi. E me lo auguro, dai. Mi sa di sì, mi sa di sì. Magari ritorna Simona, visto che c'è Bettarini come inviato. Eh no, perché lì si scatena la baruffa. A me piacerebbe però, a me l'Isola con Simona mi piaceva tanto. A me l'Isola con Simona Ventura piacerebbe da morire perché i ritmi di Simona Ventura mi piacciono tanto, tantissimo. Va bene, basta, 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 perché abbiamo una graticola che frigge veramente a 250 gradi, sapete qual è quella dei ritardatari. Guai a perderci, ve li porto dalla redazione. Venite. Eccoci amici, eccoci qua per un quadro estrazionale, quello di domani sera, che davvero, eh, ne aspettiamo una grande, ma una grande rivoluzione. Ma non è una rivoluzione così teorica, saranno i dati di fatto, signore, di mostrarci proprio il movimento numerico. Ricordiamoci una cosa, amici, che non c'è numero che non sia imbussolato. Tutti i numeri sono imbussolati, tutti i numeri hanno una loro vita, ma ci ritroviamo con un 53 in ritardo altissimo sulla nazionale e ci ritroviamo anche con tre centenari sulla ruota di Bari, ci ritroviamo con un centenario sulla ruota di Roma, che è il 5, e ci ritroviamo con un centenario sulla ruota di Venezia, che è il 2 e ce n'è dei centenari. Allora, amici, noi non li andremo a giocare tutti, ci mancherebbe altro. Peraltro non arriva da parte nostra un consiglio per la giocata d'Ambata, perché il suo ritardatario è veramente pericoloso e rischioso, quando invece possiamo andare ad affrontare un quadro estrazionale, giocando sempre il ritardatario ormai pronto, ma in Ambo Eterno dove l'euro paga veramente tanto. Un euro in Ambata ne paga 11 euro, è come non aver giocato, è come non aver vinto. Un euro d'Ambo o un euro di Eterno ne pagano molto di più. Allora, amici, attenzione all'89-2277, vi dico subito che abbiamo un unico terno per la nazionale. Signori, io il mio appello veramente lo lancio trasportandovi, quelle che sono anche un po' le mie mosse di gioco. Anch'io ho giocato questo 53, lo sto giocando, non l'ho mai giocato in Ambata. Non vi nascondo che ogni tanto mi verrebbe voglia di prendere e dire vattene al diavolo, perché comunque mai rotto. Ma poi dico sempre, beh, è veramente un errore madornale poi vederselo uscire e magari aver lesinato su quella giocata che mi comportava giusto un euro di spesa e di investimento e che poteva pagarmi un mucchio di soldi. Quindi, amici, attenzione a questo 89-2277 dove innanzitutto abbiamo il terno secco, un unico terno ed è il terno calibrato a colpo proprio per le estrazioni di domani sera, per questo 53 centenario in nazionale. È vero che i parametri sono saltati, è vero che a 253 colpi di ritardo lo dobbiamo solo attendere. Ma è anche vero che un ritardatario non è mai andato così alto, quindi ragionevolmente ormai ci se lo aspetta davvero. Attenzione anche a questo Bari-Venezia. Questo Bari-Venezia, amici, voi lo vedete, c'è il 2, ci sono il 2 e il 21 in piena evidenza. Perché? Perché il 21 è centenario di Bari, il 2 è centenario di Venezia, ma cosa succede? Voi sapete che Bari-Venezia sono due ruote di interscambio, si parlano, si scambiano a volte le condizioni. Bari chiama, Venezia risponde o l'inverso? Allora, amici, c'è da aspettarsi una mossa veramente strabiliante legata a questo Bari-Venezia. Il 2 centenario di Venezia, il 21 centenario di Bari, chiamate l'89-22-77. Marco e l'io hanno registrato quello che è il terno e probabile quaterna sicuramente ad altissimo tasso di pericolo a colpo. Mi raccomando, è qua che affrontiamo quindi il parco ritarratari con le due giocate più importanti, con le due giocate maggiormente candidate appunto a farci felici. E allora, amici, mi raccomando, andiamo all'89-22-77, anche perché sono già le 20 e 21, ad arrivare alle 20 e 30 ci vuole veramente poco. Amici, si cena anche con i ritarratari, a patto che siano veramente gestiti bene. E voi lo sapete, Marco e l'io, i ritarratari soprattutto, li centellinano, ci meditano sopra fino all'ultimo proprio per evitare passi falsi. E qua avete una vera e propria ricetta per vincerli. Andiamo, 89-22-77, anche in questo caso tasto 3 quando la voce guida ve lo richiede. Vai! Io sono un navigante del mondo Ascolto le parole del mare Respiro il suo profumo giù in fondo Per non perderne il senso più intenso È dietro a quella curva del cielo Che l'infinito esiste per davvero O forse esiste solo un momento Quell'attimo di eterno che ho dentro Parlami adesso, ti sento Portami con te oltre le stelle Dove la notte buia per davvero Notte che fa paura al mondo intero E qui, qui naviga la testa E libero la mente E la mia aria vola E fa impazzire il cuore È lui il mio uomo senza tempo E brucia come il sale Sulle labbra e sugli occhi E mi fa volare E parlerò al mare E dammi la tua onda più grande Dammi la tua furia, il fragore Che possa farmi forse tremare Nel mio cuore infine naufragare Parlami adesso, ti sento Portami con te oltre le stelle Dove la notte buia per davvero Notte che fai paura al mondo intero E dammi la tua onda più grande Allora amici, sono le 20 e 24, 20 e 25 E voglio chiudere Abbiamo parlato di 90 Abbiamo parlato di ritardatari Voglio invece chiudere con questo aggiornamento All'89 e 22 e 22 Dove entriamo nelle tecniche storiche di Marco e Lio Dove andiamo a mettere in gioco Numeri liberi Numeri che potrebbero anche sembrare poco significativi Ma li chiamano le condizioni matematiche grandi Che attendono grandi risposte Allora amici, vi faccio notare Che abbiamo un Firenze-Genova Vedete 39 e 69 Qua siamo sulla terzina Allora, oddio che mi incarto 39, 9 39 e 69 sarebbe la terzina simmetrica No, 39 e 69 Ma tra Firenze-Genova vedete anche che abbiamo un 64 46 e quindi la caduta di due numeri che sono l'uno il vertibile dell'altro Attenzione amici Tra Firenze e Genova abbiamo da mettere in gioco un ambo vertibile secco Poi nessuno dica ma io non ce l'avevo Perché quando escono gli ambi vertibili Marco e Lio li pappano come veramente è Sempre Quindi abbiamo un Firenze-Genova per ambo vertibile eterno simmetrico E attenzione amici A Napoli avrete notato il 51 e l'81 che hanno aperto proprio l'estrazione Primo e il secondo estratto 51 e 81 fanno parte della terzina simmetrica 21, 51, 81 Eccolo il 21 Il 21 centenario peraltro a Bari A Napoli Che è la sua ruota diametrale È attesissimo E questo 21 lo giochiamo semplicemente con i due abbinamenti Per puntare ai due ambi più forti Oppure direttamente alterno secco a tre numeri Signori queste sono le due situazioni di gioco Che dalle tecniche storiche di Marco e Lio Escono come punta di diamante davvero Per chi vuole due giocate libere da ritarratari E non vuole per forza rincorrere il 90 Ma vuole cavalcare due situazioni di gioco pronte davvero a pagare Amici siamo in chiusura di diretta L'89 22 22 è liberissimo Anzi vedo che già diversi di voi sono all'ascolto E vi ringraziamo davvero tutti Apriamo il quaderno magico Delle tecniche storiche di Marco e Lio Per andare a prendere le due situazioni di gioco Più bollenti Proprio in vista delle estrazioni di domani sera Mi raccomando 89 22 22 Tasto 3 Anche in questo caso Quando la voce guida ve lo richiede Ma veloce amici Perché fa tre minuti Purtroppo Noi vi dovremo salutare A tra poco Ma veloce amici 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Amici, buona settimana prossima ci siamo, ovviamente. Volevo dire una roba, fino a mezzanotte i portali che vi abbiamo proposto rimangono attivi, per cui mi raccomando, fate buon uso. Grazie a tutti. Ciao, buona serata. Ciao.